Come guadagnare utilizzando il tuo Internet. Cos'è Oneigain? Oneigain è un'applicazione per dispositivi mobili e desktop che ti consente di condividere in modo sicuro il tuo Internet con una rete globale. In cambio, Oneigain ti premia con crediti che possono essere convertiti in denaro. Oneigain è facile da usare e funziona in background, quindi puoi guadagnare denaro mentre fai altre cose. E con un sistema di referral, puoi guadagnare ancora di più invitando i tuoi amici a utilizzare Oneigain. Apri Google e cerca Oneigain. Entra sul sito e premi su Download per Android. Installa l'applicazione e attendi che si apra. Una volta dentro Oneigain accetta termini e condizioni. Se vuoi puoi saltare l'introduzione. Ti spiegheremo noi come funziona. All'interno di questa schermata potrai impostare l'utilizzo dell'applicazione ed il consumo dei dati. Lasciando l'impostazione su No, l'app funzionerà solo in presenza di Wi-Fi. Andando invece su Su funzionerà anche con i dati del telefono. In questo caso potrai andare anche ad impostare un limite di consumo in gigabyte. Premi su Fatto. Per guadagnare anche mentre fai altro con il tuo telefono, devi consentire all'applicazione di lavorare in background. Bene, ora potrai creare il tuo account. Ricordati di inserire questo codice promozionale cliccando qui. Usando questo codice ti verranno accreditati 5 dollari sul tuo account. Se il video ti è stato utile lascia un mi piace e seguici.